La Fiorentina fa troppo poco per vincere a Brescia, il Monday Night termina 0-0 cioè ragazzi, bentornati in questo nuovo video nel quale volevo parlarvi un po' della partita che pone fine a questo turno di Serie A però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e poi vi consiglio anche di iscrivervi al canale Ragazzi, la partita si è aperta subito con un grande gol di Aie ma il merito principale della rete che poi verrà annullata è di San Dordonali che fa un'azione strepitosa, che con capabilità riesce a recuperare il pallone che due volte aveva perso Salta Pulgar in una maniera incredibile e strepitosa serve Donnarumma che con molto altruismo serve appunto a Aie però quando Tonali salta Pulgar, rivista Alvar e l'arbitro annulla il gol per un tocco di mano che anche adesso mi lascia parecchie perplessità perché penso sia più petto che mano però ragazzi, attenzione, non prendete le mie parole come oro colato perché le immagini non sono ancora molto chiare e bisognerà rivederle magari anche da altre angolazioni da qui in avanti la Fiorentina cerca di condurre una gara ordinata scoprendosi abbastanza e diciamo non lasciando allo stesso tempo molto spazio alle avanzate offensive avversarie Castrovilli ci prova e diciamo che Gironen si impone abbastanza bene Castrovilli oggi leggermente sotto tono, meglio nel complesso Ribéry, anche Chiesa non mi è piaciuto più di tanto però questo tridente della Fiorentina potrebbe funzionare, anzi per me funzionerà Montella lo ha sperimentato e lo ha fatto con ottimi risultati sta andando i suoi frutti anche se oggi non è andata proprio come Montella si aspettava il Brescia alla fine ragazzi non crea niente, Dragoschi non deve fare niente forse l'unica vera occasione sarà quella del gol annullato dopo pochissimi minuti per il resto praticamente zero e totale però anche la Fiorentina ha fatto poco per vincere, la Fiorentina doveva fare molto molto di più e comunque la Viola nelle ultime giornate ci aveva abituato a buone prestazioni la vittoria contro l'Udinese, quella contro il Milano a San Silo, quella contro la Sampa comunque belle vittorie, partite convincenti oggi hanno fatto di nuovo un passo indietro sia sotto il punto di vista del gioco che comunque è stato sì nel complesso positivo però contro il Brescia oggettivamente si deve fare di più anche se attenzione il Brescia è una buona squadra e anche sotto il punto di vista realizzativo perché non si segna lì davanti qualche tiro l'hanno fatto ragazzi penso più di una decina di diri non importa nel complesso l'abbiano fatti però poca precisione, scarsa precisione e soprattutto scarsa dote e realizzativa quindi vanno migliorati questi aspetti però ovvio la Fiorentina può ambire ad un piazzamento europeo anche se ad oggi non parte assolutamente tra le squadre che inserirei nei primi sette posti il video finisce qui vi ringrazio per la visione mi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale ciao a tutti